E' quello che è? Mi stavi seguendo? No. Ti piace? Mi piace tutto di te. Dove sei stato ieri notte? Tua moglie mi ha chiamato e era disperata. Che succede? Che stai combinando? Non voglio ancora ritirarmi. Voglio combattere per il titolo mondiale. Mi porto i bambini in Italia. Te la farò pagare. Mi amerai? Ora che è il mio momento, tu te ne vai con una troia! Perché fai pugilato? Mi piace fare botte. Ciao! Grazie a tutti.